Riccardo Musetti ti sei trovato davanti al portiere o comunque in posizioni pericolose tante volte poi alla fine però il rigore l'hai buttata dentro e hai potuto scatenare la gioia magari che è rimasta strozzata nelle azioni precedenti. Sì, infatti le prime occasioni che ho avuto ero subito dopo proprio avvelenato perché una era pure facile però per non sbagliare ho cercato di smorzarla e l'ho sbagliata pure. Poi avevo provato il rigore, ho tirato fuori la rabbia che avevo dentro dall'occasione di sbagliare. Era difficile, per me è una delle partite più difficili perché quasi aspettavano il campo bruttissimo. Devo fare i complimenti ai miei compagni perché sono proprio dei più giovani perché hanno fatto una gran partita ci sono calati subito nella realtà. Io personalmente sono molto arrabbiato con me stesso perché la mia prestazione secondo me non è stata una buona prestazione però i miei compagni hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Diciamo che avevi già segnato anche in altre occasioni però oggi era partita vera, oggi era una partita ufficiale il primo gol ufficiale tra l'altro della storia di questo nuovo Parma. Com'è sentire l'urlo di tutti questi tifosi venuti a Parma dopo il tuo gol? È stato, sinceramente l'ho sentito poco perché stavo urlando pure io. Però sono veramente contento perché che dà anche fiducia personale perché poi stiamo lavorando, stiamo lavorando forti e quindi adesso si sente anche un po' la stanchezza però è all'inizio, basta prendere il via con quelle partite più che altro spero di farne uno sulla curva domenica per sentire l'urlo vero. Grazie